Mister, domani contro la Carrarese un'altra sfida importante per trovare punti in classifica contro una squadra molto solida che viene da 13 risultati utili consecutivi. Ci sono tutti i presupposti di partita difficile e impegnativa come ci sta capitando nelle ultime giornate. Torno a ripetere, queste partite ravvicinate non ci stanno aiutando anche perché poi, giocando così in modo ravvicinato alcuni giocatori non sono disponibili, non riescono a recuperare da faticamenti, da problemi muscolari e di conseguenza affrontiamo comunque questa partita consapevoli dell'importanza di questi punti e contro un avversario, come ha detto lei, che viene da tantissimi risultati utili. Ciò dimostra e testimonia che è un'ottima squadra, che ha ottimi giocatori e ben allenata. Per la Pistesse la possibilità anche di sfruttare comunque tre gare casalinghe consecutive? Vabbè, noi adesso pensiamo a questa con tutti i problemi che ci stiamo portando dietro nell'ultima settimana. Abbiamo alcune assenze o stiamo cercando di recuperare alcuni giocatori, perciò al momento sappiamo solo dell'importanza di questa partita e cercheremo di farla, come abbiamo sempre fatto, mettendo cuore, mettendo anche qualità e cercando di disputare una buona partita, anche perché giochiamo di fronte ai nostri tifosi che ultimamente si sono un po' riavvicinati e ci teniamo per loro a giocare anche per loro. Oltre ad aver raggiunto qualche risultato importante, avete sicuramente raggiunto un obiettivo, aver riportato entusiasmo e pubblico al Melani. Adesso la responsabilità è ancora più grande perché dobbiamo mantenere questo rapporto, perciò dipende solamente da noi, insieme ai ragazzi sono convinto che cercheremo con tutte le nostre qualità, capacità e forza di mantenere questo connubio e soprattutto dimostrando sul campo di meritare questa fiducia.